Rientra l'emergenza dopo la nuova accelerazione dei giorni scorsi della frana dell'Eurinon. Nella notte tra lunedì e martedì a causa delle forti piogge i 60.000 metri quadrati della nicchia, secondo le rilevazioni del centro di monitoraggio di Arpa Lombardia, si erano spostati a valle ad una velocità passata in breve da poche decine di centimetri fino a due metri al giorno. Oggi l'emergenza è rientrata del vasto fronte del dissesto che minaccia la strada provinciale chiusa per la realizzazione del Vallo Paramassi. Solo una piccola parte è risultata in movimento, mentre il grosso del corpo frana ha decisamente rallentato. Regione Lombardia, commenta l'assessore al territorio e protezione civile Pietro Foroni, sorveglia costantemente questa situazione dopo aver già investito tanto per la mitigazione del rischio idrogeologico e la difesa del suolo.